Allora, ciao ragazzi e ciao ragazzi! Oggi sono qui perché voglio innanzitutto ringraziare tutti gli iscritti nuovi, ovviamente anche quelli precedenti, state diventate veramente tanti. La cosa che mi piace tantissimo, anche se comunque l'italiano li adoro ovviamente, è che si stanno iscrivendo nel mio canale tantissime ragazze e ragazzi spagnoli, americani, e questo mi fa un grande onore perché comunque, insomma, essere seguiti anche da altri paesi è sempre molto piacevole. Allora, oggi sono qui per parlarvi di un altro piccolo progettino che ho in servo per il canale, anzi un progettino. Allora, si tratta di un progetto che io non ho inventato, ci tengo a precisarlo, perché comunque io sono una di quelle persone che ama creare, creare da nuovo, creare una cosa che non è già stata fatta e quindi la ricopio, però molto spesso capita che c'è una cosa che ti piace particolarmente, un format, un'idea, e allora la si può anche prendere. Ovviamente io credo sempre che sia giusto e fondamentale per la correttezza dire sempre la fonte dove arriva l'idea. Allora, in questo caso io mi sono ispirata o comunque ho preso l'idea da una persona che conoscerete sicuramente in tantissime se amate il make-up. E questa idea l'ho presa dal sito di Clio Make-up. Mi sono ispirata al suo secondo canale, dove lei ha appunto chiamato il canale Clio Make-up Review. Per chi non sapesse cosa sono le review, sono appunto delle recensioni di prodotti, in questo caso lei parla di prodotti di make-up. Invece io vorrei fare la stessa cosa, quindi molto simile, ovviamente non le copierò nel format, mentre non è che prendo e mi porto il suo format dentro il mio canale. Però ho fatto qualcosa di simile e vorrei parlare di molti prodotti che si usano non solo nello scrub-booking, ma anche nel craft in generale, nei vari hobby appunto che io amo fare e che so che voi a cui siete molto interessati, quindi come non so, le paste polimeriche, piuttosto che appunto lo scrub-booking, la pettura, ci sono tantissime cose di cui parleremo in questo format, però la cosa bella è che io parlerò di un solo prodotto, vi dirò che cos'è, come si usa, quindi vi parlerò di questo prodotto e vi spiegherò appunto le caratteristiche, come si utilizza e soprattutto che cosa ne penso io di questo prodotto. Quindi se mi piace, l'ho utilizzato, perché comunque tendenzialmente cercherò comunque prima di parlarvene ovviamente di utilizzarlo per un periodo abbastanza lungo, in modo che comunque posso darvi sicuramente la mia impressione su quel prodotto una volta utilizzato in, diciamo, in tutte le varie possibilità. Ok, allora, io spero che questo progetto vi possa piacere, vi possa interessare, magari me lo fate sapere con un commento sotto questo video e una cosa che vi chiedo è, siccome comunque già ho girato alcuni video su alcuni prodotti, se vi interessano alcuni prodotti e ovviamente posso accontentarvi, appunto posso parlare di questi prodotti, li posso magari provare e cercare appunto di consigliarvi o meno, ditemelo appunto su un commentino, sotto questo video con un commento. Allora, potrà capitare che questi prodotti mi vengano inviati, ovviamente darò sempre l'indicazione delle case appunto o dei negozi che mi mandano questi prodotti per una questione proprio di correttezza e ovviamente poi comunque avrò la mia libertà di potervene parlare in modo positivo o in modo negativo. Se i prodotti vengono acquistati da me o comunque sono dei miei prodotti, ovviamente vi dirò anche quello. Cercherò sempre appunto di dirvi i costi, dove potete reperirli, perché almeno a me serve tantissimo trovare dei vari canali anche il possibile poterli reperire, perché tantissime volte appunto esistono dei negozietti online magari dove possiamo trovare dei prodotti e non tutti riusciamo insomma a trovarli. Quindi spero che questo progetto possa esservi utile, appunto fatemelo sapere come vi ho detto, vi do un bacione e vi carico il primo video di questa mia nuova idea. Ciao a tutti, un bacione!